Le belle coincidenze che ci portano a fare anche delle belle scoperte. Ieri la collega Maria Pia Picciafuoco mi inviava un messaggio dicendomi che a Roma dal 27 al 29 settembre presso il Museo Orto Botanico ci sarà una straordinaria ventesima edizione di un appuntamento che nasce per esplorare le nuove forme di arte e architettura del verde con questo titolo così particolare che ovviamente i più attenti ricorderanno che sono strettamente anche legati alla mia storia personale. Per cui con noi oggi abbiamo il piacere di avere Maria Cristina Leonardi responsabile della conserva della neve che ci dirà nel dettaglio di cosa si tratta. Buongiorno Maria Cristina, bentrovata! Buongiorno! Che bello vederti immersa nel verde, non sei ancora nella capitale ma ci arriverai tra qualche giorno perché ormai tutto pronto per la ventesima edizione della conserva della neve. Ma appunto spiegaci che cos'è la conserva della neve. La conserva della neve è il nome che veniva dato alle ghiacciaie antiche, le ghiacciaie del Cinquecento, del Seicento fino all'Ottocento. Ho dato questo nome alla manifestazione nel 2002 perché il luogo della manifestazione era all'interno di Villalante di Bagnaia, bellissimo giardino rinascimentale. e per rispetto di questo luogo così importante ho chiesto cosa ci fosse nella zona dove doveva allestire la mostra e mi hanno detto ma qui c'è la conserva della neve, cioè la ghiacciaia praticamente dei cardinali che avevano questo bellissimo luogo. E dunque ho dato questo nome che non ricorda le piante, non ricorda direttamente lo spirito della mostra che è quello di proteggere e di divulgare la biodiversità vegetale. Però è stato una specie di filo rouge perché poi quando siamo stati invitati a fare la mostra all'interno del Parco dei Daini di Villa Borghese a Roma c'era la conserva della neve del casino di caccia di Scipione Borghese che adesso è la Galleria Borghese. E poi quando il direttore del Museo Orto Botanico di Roma, il professore Fabio Attorre, ci ha invitati a farla all'interno dell'Orto Botanico anche lì c'è una conserva della neve che era legata a Palazzo Corsini. Quindi è un nome che poi ha avuto sempre senso. E ha tanto fascino come appunto ci spiegavi tu ed è stata un'intuizione secondo me molto bella quella di averla associata alla mostra botanica perché suscita davvero tanta curiosità. 20 anni di edizione, ventesima edizione, quindi 20 anni di questo amore, questa cura per le piante intervallata solo dalla parentesi ovviamente dallo stop forzato della pandemia. Che cosa dobbiamo aspettarci per l'edizione di quest'anno presso il Museo Orto Botanico di Roma dal 27 al 29 settembre come dicevamo? Il tema che abbiamo dato quest'anno della mostra è l'albero come habitat. Intanto perché questa mostra adesso si svolge a Roma, Roma è una città molto verde, anzi è la capitale più verde d'Europa con parchi molto grandi, con grandi esemplari di alberi che però non vengono curati a sufficienza e che spesso si ammalano o cadono addirittura. Quindi diciamo che c'è una forte sensibilità per coinvolgere di più le amministrazioni pubbliche nella cura fondamentale di questi grandi esseri viventi che sono quelli che ci fanno vivere al meglio, sono quelli che ci permettono di essere sani. E che tra l'altro creano un habitat, diventano loro stessi un habitat perché comunque danno vita a tutta una serie di altri esseri viventi che possono essere insetti, batteri, che possono essere altre specie vegetali. Quindi questo è il tema e per questo abbiamo invitato eminenti personaggi che si sono sempre interessati di questo. Per esempio venerdì viene Tiziano Fratus che tutti conosceranno perché lui è un poeta amante degli alberi che presenterà il suo libro Alberodonti d'Italia e farà anche una cosa molto interessante perché farà una specie di meditazione diciamo come posso dire verde per cui io suggerisco alle persone di presentarsi semplicemente il venerdì intorno alle 11 per seguire questo tipo di percorso che farà Tiziano Fratus. Poi ci saranno altre presentazioni di libri sempre che riguardano gli alberi, che sono grumi e anche il giardino del Mediterraneo e di Giuseppe Barbera con insignia, agronomo, insomma cosa dire di più, anche lui lo conoscono in molti almeno chi apprezza questo tipo di tematiche. Un programma ricco insomma, un programma molto ricco. Sì sì sì, conferenze, insomma devo dire che sono molto soddisfatta perché poi con il corso degli anni questi personaggi che sono personaggi di altissimo livello continuano a venire, insomma sono molto, amano questa mostra ecco, quindi questo per noi è diciamo molto importante, vuol dire che il lavoro che stiamo facendo non è inutile, è un lavoro costruttivo. Un lavoro fatto bene, senza dubbio. Maria Cristina, noi siamo felici di averti conosciuto, di aver avuto la possibilità di parlare della Conserva della Neve, rimandiamo quanti fossero interessati all'evento, a visitare il sito ufficiale laconservadelaneve.com e a fare un salto a Roma dal 27 al 29 settembre. Sì, anche perché poi possono comprare moltissimi, possono trovare veramente specie, piante, fiori che raramente si trovano diciamo nei normali circuiti dei garden, qualsiasi cosa che riguardi il verde dai vasi ai libri all'arredo da esterno, insomma, c'è veramente per tutti. Bene, allora buona Conserva della Neve a te e a tutti i tuoi collaboratori e a quanti la parteciperanno. Magari ci risentiamo più avanti per fare il punto della situazione. Intanto buona giornata. Anche a te, grazie mille.